Grave atto perpetrato ai danni del comune di Martone che nella notte si è visto incendiare l'unico scuola bus in dotazione. Il sindaco di Locri Calabrese si è subito dimostrato solidale con il sindaco Giorgio Imperitura mettendo a disposizione del comune di Martone uno scuola bus in dotazione all'amministrazione locrese in modo da poter garantire il servizio di trasporto degli studenti all'interno del territorio del centro Locrideo. L'ennesimo grave atto subito ai danni delle amministrazioni comunali Locridee ha portato poi una serie di atti di solidarietà in primis quello dell'assessore regionale Federica Roccisano e del capogruppo del PD Sebi Romeo. L'incendio dello scuola bus del comune di Martone dicono è l'ennesimo atto intimidatorio in cui siamo costretti ad assistere nella vallata del Torbido. Avevamo già detto in occasione del Consiglio Comunale Aperto di Gioiosa per esprimere solidarietà a Salvatore Fuda che a nostro giudizio ci troviamo di fronte ad una strategia criminale di assalto alle pubbliche amministrazioni della vallata, della Locride e della democrazia nella nostra provincia. È evidente, continuano Federica Roccisano e Sebi Romeo, che la criminalità ha alzato il tiro nella sfida alle comunità e al loro diritto di vivere libere e di lavorare, progredire e svilupparsi. E la risposta dello Stato nel suo complesso deve essere adeguata, forte ed immediata. Ringraziamolo, concludono nel comunicato stampa, il prefetto di Reggio Calabria che in tal senso ha già prontamente convocato in più occasioni il COSP e sono convinto che le forze dell'ordine e la magistratura assucchereranno alla giustizia i responsabili di questi atti intimidatori. Cogliamo infine l'occasione per ribadire che la vasta mobilitazione popolare e democratica dei cittadini della Locride dimostra ancora una volta come questa terra si ormai stufa di subire le angherie di una sparuta minoranza criminale.